Ciao ragazzi, benvenuti nel commento della conferenza Electronic Arts alle 3 2018 che inaugura la nostra copertura della manifestazione di Los Angeles. Con questa formula ho deciso di commentare, di ricommentare tutte le conferenze per darvi il mio punto di vista e anche qualche informazione a freddo. Nella descrizione trovate invece l'articolo con il recap e soprattutto la registrazione della diretta che ho commentato in italiano in tempo reale con le reaction e con la chiacchierata nella chat. Ecco, quindi questa doppia formula. Una conferenza Electronic Arts da 6,5-7, ecco, con bei momenti e momenti morti, soprattutto rappresentati da Command & Conqueror. Quindi gli darei un 7, va, scrivete voi nei commenti se siete d'accordo o vi è piaciuta di meno. Una conferenza che ha il protagonista assoluto in Anthem, lo vedete in questa particolare introduzione. Però, torniamo un attimino indietro, parliamo dei giochi più interessanti a partire chiaramente da Battlefield V. Già mostrato un paio di settimane fa, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, durante la conferenza è stato mostrato ulteriormente per ricordare che sarà un gioco altamente spettacolare nel quale, ad esempio, vedete come in questo caso le armi possono essere trasportate in giro per la mappa di gioco e c'è un'ampia distruttibilità dell'ambientazione classica di Battlefield, forse anche migliorata rispetto al passato, rispetto agli ultimi capitoli che erano tornati un po' indietro grazie all'evoluzione del Frostbite Engine di Dice, che è sicuramente uno dei motori grafici più impressionanti. Grandi combattimenti su larga scala, dogfight, e ci sarà anche la presenza di una modalità Royal, in stile Battle Royale, che secondo me è forse una delle migliori indicate per un gioco come Battlefield, nel senso che è coerente, Battlefield propone mappe enormi, tanto da fare, moltissimi giocatori su schermo, e quindi la modalità Battle Royale per me ci sta, è la più coerente, molto di più ad esempio che un Call of Duty o altre cose che invece hanno un concetto differente di FPS. Detto questo, ci sarà comunque la modalità single player, una storia da raccontare, una grafica eccezionale, e soprattutto una concentrazione sia per il gioco competitivo multiplayer che per il gioco in single player. Abbiamo a che fare infatti con un gioco molto corposo, che è tanto atteso anche per cercare di offrire un modo differente di fare FPS, e i sviluppatori hanno affermato che ci sarà grande concentrazione sulle storie, le storie non raccontate all'interno della Seconda Guerra Mondiale. Quindi si approfondiranno singoli personaggi, singole storie per rendere la componente single player anche un po' più emozionale. Staremo a vedere, mentre calcio, ci aspettavamo tutti, FIFA 19, 28 settembre, il mio amico Cristiano Ronaldo, il mio carissimo amico, ormai protagonista di tantissimi meme, siamo arrivati a condividere ragazzi 65 volte, ci conferma che quest'anno la Champions League cambierà casa, quindi passa da PES che dopo dieci anni ha finito, ha perso i diritti, non ha trovato più l'accordo, ed entra in FIFA. Quindi FIFA 19 avrà il 28 settembre la Champions League e anche l'Europa League confermato, con tutte le licenze, le squadre, la musica, questo trailer è stato creato da Hans Zimmer addirittura, poi ci sarà Serie A, Coppa Italia, Scudetti, quindi comunque c'è un ulteriore passaggio a favore di FIFA in termini di licenze e quindi di appetibilità generale, perché chiaro, avere tutte le maggiori licenze di squadre, di competizione, addirittura anche la Champions League e così via, porta a una differenza marcatissima rispetto a PES, che rimane un gioco che ha un gameplay differente, avete visto la super rovesciata del mio amico Cristiano contro la Juventus, quindi comunque gameplay ancora molto differenti, però chiaramente c'è un bel gap dal punto di vista comunicativo. Arrival 2, la bomba per quanto mi riguarda di questa conferenza Electronic Arts, perché è già disponibile ragazzi, 19,99€, multipiattaforma, PC, Xbox One, PlayStation 4, il seguito di un titolo particolarmente apprezzato, un indie comunque fatto bene, che ha venduto bene, e adesso cambia un po' le carte in tavola questo secondo capitolo, da un certo punto di vista, è più orientato alla cooperativa, ci sono due gomitoloni, due Spark, che devono cooperare per risolvere i puzzle, si può giocare in realtà anche da soli, però poi c'è questa formula drop in e drop out, dove il giocatore può entrare e quindi giocare insieme, quindi trascinarsi, portarsi all'interno di questi scenari, che hanno un 2D veramente bello, secondo me c'è stato un bel miglioramento dal punto di vista grafico, rispetto al primo capitolo. E i sviluppatori hanno detto che è stato aumentato il livello di sfida, il gioco è più friendler, più amichevole, e quindi più centrato sul rapporto tra i due protagonisti, sul darsi una mano, sulle emozioni, perché vedete sullo sfondo certo spesso e volentieri ci sono anche personaggi umani o comunque scene di vita vissuta. Il gioco quindi disponibile da subito, chiaramente su Gameplay Cafe l'abbiamo già comprato, il nostro mitico Anthony, che avete visto nel Gameplay Show, l'ha comprato, quindi si preoccuperà di scrivere a breve un articolo di impressioni preliminari dopo averlo giocato e poi arriverà chiaramente la recensione del titolo, magari ci facciamo una diretta, un Gameplay Today, una video recensione a video, chiaramente adesso ci concentriamo sulle 3D Los Angeles e quindi il tempo è limitato con i nostri piccoli mezzi indie, ma stiamo cercando appunto di darvi la massima copertura. Su Gameplay.cafe trovate già diversi articoli, vi ho detto nella descrizione troverete assolutamente la registrazione completa della diretta, quindi ci stiamo divertendo assieme a voi. Sea of Solitude, sviluppato da Joe May, fa parte degli indie e original, se mi ha ricordato un po' Gravity Rush, giorni come atmosfere, parla di questa ragazza giovane, Kay, che è stata sopraffatta dalla solitudine e quindi si è trasformato in un mostro. Si trova in questo oceano dove ci sono altre persone sopraffatte dalla solitudine e magari interagendo con loro, conoscendole, può ritornare normale. In questo che sembra essere un'avventura esplorativa, magari con qualche puzzle, molto ispirata dal punto di vista artistico, mi piace assai, l'ho messa subito nelle cose che voglio controllare, sembra essere molto molto bello, uscirà inizio anno prossimo e quindi è uno dei giochi da tenere in considerazione. Chiaramente non è un tripla, non è di appeal enorme, però è molto molto interessante, quindi approved da Antonio Fuscito. Poi, non si poteva non finire in bellezza, con Anthem, il nostro titolo più atteso della conferenza, è chiaramente il titolo migliore mostrato durante questa conferenza. Parla di questo pianeta, sull'oro della distruzione e la parte del dominio, c'è una piccola roccaforte umana e un piccolo hub chiamato Fort Tarsis, e ci sono quindi queste persone che devono cercare di sopravvivere e controvertire, no? Sovvertire quello che sta succedendo. Grazie a queste quattro classi disponibili, l'Hunter, l'Interceptor, lo Storm e il Colossus, il Ranger, non l'Hunter, il Ranger, scusate, queste quattro classi che possono poi muoversi a piedi oppure utilizzare i Javelin, queste Exosuit che gli permettono di muoversi in verticale, di volare e di esplorare più velocemente l'ambientazione. Questa ambientazione prettamente ostile, prettamente difficile da affrontare, in un gioco che a detta di Bioware, c'è stato, vedete, questo Q&A, sarà molto ambizioso. Loro hanno potuto quindi lanciare questa nuova proprietà intellettuale, questa nuova IP, come si suol dire, scrivendo da zero tutto il mondo di gioco, l'ambientazione, tutto quello che c'era nella loro mente, e creando, volendo creare un GDR con struttura open world, ma perennemente connesso online, quindi nel quale c'è questa sorta di integrazione tra offline e online. Si può giocare da soli, si può giocare in cooperativa e questo sarà una scelta, ragazzi, non sarà, come dire, la cosa consigliata. Chiaramente giocando in cooperativa con gli amici sarà più divertente, certo, al 100%, ma non si potrà giocare solo e ci sarà una perfetta componente narrativa, sarà un gioco single player declinato online, declinato anche in cooperativa. Un po' quello che aveva provato a fare inizialmente Bungie con Destiny non c'è riuscito, erano missioni singole, era molto didascalico e anche poco approfondito dal punto di vista della scrittura. In questo caso abbiamo a che fare con Bioware, vedete comunque c'è il forte, personaggi fatti bene, e quindi ci saranno dialoghi, una storia corposa, un'avventura che potrà essere, ripeto, vissuta anche singolarmente con intelligenza artificiale. Queste quattro classi chiaramente hanno delle caratteristiche differenti, no? Questa è una piccola missione mostrata e poi c'è la versione stessa che i fortunelli sul posto potranno giocare e quindi ogni classe ha attacchi a distanza, l'utilizzo di armi pesanti, l'utilizzo di tecniche di simil stealth e poi chiaramente questi javelini che permetteranno di avere questa verticalità molto più accentuata per un gioco che graficamente a me piace assai, è chiaro, c'è uno stacco tra le sequenze non interattive e quelle interattive, però il gioco è molto bello dal punto di vista artistico, grande effettistica, bella profondità visiva, molto ispirato, distruttibilità, una buona fisicità per quanto riguarda i combattimenti e questo è sempre molto interessante, vedete l'AD con la bussola in alto, l'arma primaria e secondaria in basso a destra, questi grandi nemici, a me interessa molto molto e quindi chiaramente lo metto assolutamente tra i titoli che attendo di più. uscirà PC, e questa è la versione mostrata chiaramente, con supporto 4K, 30 fps, PS4, Xbox One, il 22 febbraio 2019, la stessa data di uscita di Days Gone, probabilmente uno dei due verrà leggermente spostato, sarebbe un po' un suicidio, due titoli molto attesi di uscire in contemporanea, quindi non è tanto lontano nel tempo, 8 mesi, ci saranno le rifiniture di scrivere tutto, però ho grandi aspettative, perché se davvero BioWare, che io apprezzo molto, riuscirà a fare un gioco dalla qualità di un Dragon Age, esempio, no? Ma con una componente cooperativa, una modalità OS Online, quindi la possibilità di interagire con altre persone, amici e utenti, avrà proprio sbancato il Lunario, ecco. Questo è quanto, una conferenza di Cielo e Electronic Arts da 6,5-7, il momento tristissimo di Command & Conquer, lo Star Wars di Respawn, che potrebbe essere il vecchio di Visceral, dove si andranno a definire i Jedi, quindi trovate nella descrizione tutto quanto, la diretta, la replica della diretta, scrivete nei commenti cosa ne pensate anche di questa formula del commento, e noi poi ci vediamo con le prossime conferenze. E3 2018 anche su Gameplay Café.